Sanità Veneta, tutti i dubbi del CUB, la Confederazione Unitaria di Base, sintetizzati in una domanda. È vero oppure no che ci sarebbero alcuni dirigenti e funzionari della Sanità Veneta in pensione che percepirebbero contemporaneamente lo stipendio? Un interrogativo contenuto in un esposto inviato dal CUB alla Guardia di Finanza di Venezia e alle procure della Repubblica del Veneto. Risulterebbe infatti che non si possano cumulare nel pubblico impiego gli incarichi di direzione qualora il soggetto incaricato sia un funzionario, un medico o comunque un laboratore in quescenza. Lo dice a chiare lettere la legge Madia, la 124 del 2014, esplicitata in varie circolari tra cui la numero 6 sempre del 2014, dove sono scritti a chiare lettere quali sono i divieti di cumulo. Cioè o si vive del proprio stipendio di direttore sanitario, di direttore, oppure si vive di pensione e si prende l'incarico di direttore ma a titolo gratuito. Oggi il CUB vuole fare chiarezza sulla posizione di alcuni dirigenti della Sanità e delle ULS Venete e con l'esposto presentato chiede la verifica su possibili incompatibilità tra gli incarichi assegnati dalla Regione Veneto ad alcuni manager e l'eventuale percepimento cumulativo di pensione e stipendio che per un dirigente si aggirerebbe sui 130.000 euro all'anno. Il CUB su questo punto sottolinea il silenzio da parte della Regione Veneto. Riteniamo sia un dovere civico chiarire queste posizioni proprio perché stiamo parlando di risorse pubbliche. Pertanto noi abbiamo scritto questo esposto affinché la magistratura penale ma anche contabile faccia il suo corso.